Mi piacerebbe che fossi. Sono qui. Sei pronto? Ci aspetta. Ho guardato qualche video di questa settimana. Grandioso, Barba Nera era un pazzo. Ci siamo entusiasmati quando è saltata fuori l'idea di fare un trailer su di lui. Magari con lui che beve, che parla con altri pirati e che racconta una storia. E poi tagliamo con lui che si aggira sul ponte della barca. Scusa, nave, non barca. Lui che salta in giro per il ponte, si appende alle corde e lotta come un diavolo. Ovviamente dovremmo modificare un po' il materiale che abbiamo per migliorarlo, ma sarà grandioso. Mi si rimestano tutte le buddelle al solo pensiero. Scusa. Bonjour, ça va? Scusa, il ritardo. Niente, potete entrare. Ciao Melanie, vi ho visti entrare. Mi serve un minuto con te soltanto. Sono al telefono con Letizia a proposito del progetto Kenway. Sì, certo. Scusami tanto, ti chiamo dopo. Non ci vorrà molto. Ehi. Ciao. Hai un secondo? Certo che ce l'hai. Ma al punto segnato sulla mappa, ho un lavoro per te. Voglio collegare le telecamere dell'edificio a un sistema di controllo centralizzato, ma molte sono calibrate male. Un'altra porta è chiusa. Non è un problema. Voilà. Ora hai anche un accesso di livello 2. Niente male per un nuovo arrivato. Trova i comandi. Aggiungo il trasmettitore. Ah, interessante misura di sicurezza. Devi trovare la combinazione di numeri giusta per regolare l'onda. Facile, no? Scegli un selettore numerico e cambia il valore. Quando avrai trovato la giusta combinazione di numeri, otterrai l'accesso. Facile, no? Ah, interessante misura di sicurezza. Devi trovare la combinazione di numeri giusta per regolare l'onda. Facile, no? Scegli un selettore numerico e cambia il valore. Quando avrai trovato la giusta combinazione di numeri, otterrai l'accesso. Funziona. E se vogliamo informazioni su assassini, templari o sull'osservatorio o su qualsiasi cazzo di cosa ci interessi, tu ce le dai, Olivier. Punto e basta. Questo lo capisco, Letizia. Forse mi sono spiegato male. Noi non stiamo cercando di ostacolare nessuno. Ma al momento non abbiamo le risorse sufficienti per raddoppiare le ricerche. Far quadrare il bilancio spetta a te. I prodotti di intrattenimento sono solo un modo per pagare i costi di ricerche molto più importanti. È così che va il mondo, eh? I soldi sporchi finanziano gli ospedali, hai capito? Siamo con te, Letizia, tranquilla. Ci sta lavorando il nostro uomo migliore, vedrai. Ma ci vorrà tempo. Saresti tu. Bene, e grazie a tutti e due. Aspetto con ansia la vostra consegna. Ci vediamo alla riunione degli azionisti, Olivier. Non vedo l'ora, Letizia. Ciao, ciao. Che stronza! È un po' troppo presto per trattarmi in questo modo, eh? Forza! Allora, cosa si fa? Quello che vuole è la signora. Puntiamo sull'osservatorio. Assassini, templari, che cazzate. Mi incuriosisce la riunione degli azionisti. Che ne dici di entrare nell'ufficio di Olivier e provare a cercare la sua agenda? Oh, cosa? L'idea non ti piace? Allora che ne dici se faccio la spia su di te, hacker? Sei mio! Intendo dire... Non voglio rovinarti la vita. Perciò fa come ti dico. Ora, va alla finestra. Un po' troppo presto. Tu sei mio! Visto che non puoi entrare nell'ufficio di Olivier dalla porta, ho aperto un altro percorso. Sì, sale. Sapevi che l'Astergo era diretta dai Templari? Oh sì, lo so che sembra una pazzia, ma alla fine anche l'atterraggio sulla Luna era finto, no? Tutto è possibile. Ci siamo. Puoi entrare da quella porta oppure lanciarti dalla terrazza. Tocca a te e decidere. Ho un bel colpo, amico. Trova il computer. Fa in fretta. Cerchiamo la data della ri... Ora fa attenzione. Il canale dei dati è controllato in continuazione da programmi di sicurezza. Devi agirarli di nascosto, altrimenti distruggeranno i dati che sposti. iovani. ORRIGARE. Grrr. Grazie. udi. Grazie a tutti. 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 Non vorrei mica provare a fottermi. Ho coperto le mie tracce. Le tue no. Mi piace il mio macchiato? È buono, eh? Penso che sia un po' troppo lungo. Oh, andiamo. Non è un codice segreto per la miseria. È un caffè, cazzo. Ehi, evviva! Il nostro amico. Ehi, ciao. Mi hanno detto di recuperare altri dati. Ehi, ma non volevi vedere me? Sì, due piccioni con una fava. Vediamo. Mmm, una conferenza a Chicago. Ottimo. Grazie mille. Ci sentiamo. Ciao, Rebecca. Chiamami. Piantala, Hastings. Ben fatto, amico. Ottimo lavoro. Scusa se ho perso la pazienza prima. Vai solo aiutando i buoni. Te lo assicuro. Noi ti proteggeremo. Fidati. Ora torna al lavoro. Ci sentiamo. Un uniforme antisommosso. Secondo me pensano sia evitato il tuo lavoro. Ho un orribile presentimento. Ti accadrà qualcosa laggiù. Non lo sopporterei. Starò attento, lo giuro. E quando avrò dei soldi e una casa, tu mi raggiungerai. Presto. Caroline, vieni via. Non fare sforzi. Non posso promettertelo, Edward. Se ora te ne vai senza meta, io non ti prometto niente. Devi credere in me, Caroline. Ho bisogno della tua fiducia. Ti stai abbandonando ai ricordi? Solo una lettera da casa. Credo che non pensi più a me ormai. Oh, un cuore duro che ha fame d'amore. Forse dovrebbe indurire in altre parti. E di quale parte stai parlando di preciso, Capitano Rackham? Vuoi conoscere il mio segreto, vero? Un piccolo indizio almeno. Oppure uno grosso, se ne siete all'altezza. Apri la mano. Oh! Chi è che spara? Forse è quelle navi che entrano in porto. Cristo.